Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Vabbè, più video podcast questo. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika, in Altea Postmoderna e sul mio canale parlo principalmente di libri ma anche di film e serie tv. Oggi andrò a sfatare qualche luogo comune sugli adattamenti cinematografici di romanzi. Perché questa specificazione? Perché la necessità di questa specificazione? Ve lo spiego tra un attimo perché ora ho la necessità di pararmi il culo. Infatti, metto le mani avanti, questo video non ha alcuna pretesa di esaustività. Lo ripeto, nessuna pretesa di esaustività, nada, zero proprio. La teoria degli adattamenti, infatti, è vastissima. Gli studi sull'argomento sono tanti, piuttosto eterogenei, ma alcuni anche molto molto specifici. Giù in infobox vi lascio qualche riferimento bibliografico di testi che ho consultato, letto e studiato per la stesura della tesi triennale, proprio sull'argomento. In particolare mi sono concentrata sul cinema italiano contemporaneo, il rapporto alla letteratura italiana contemporanea, quindi al linguaggio cinematografico, in letteratura, nella nostra letteratura nello specifico, e a tante altre belle cosine. Sono testi anche che ho utilizzato per la preparazione di alcuni esami universitari che, tra parentesi, mi sono piaciuti un botta. E per approfondimenti miei personali senza scopo, anche se non scopo, alla fine l'abbiamo trovato, ovvero la realizzazione di questo video. Mi permetto anche di lasciarvi un mio scritto, sempre giù in infobox. Si tratta dell'analisi di un film che ha anche un adattamento cinematografico, ovvero Espiazione di Joe Wright, tratto dal romanzo di Ian McKeewan. Fatemi sapere cosa ne pensate se lo leggerete. Non il romanzo, il mio scritto, la mia analisi. Ovviamente la mia analisi contiene spoiler sia sul film che sul romanzo. Del romanzo di Ian McKeewan, invece, ve ne ho parlato tempo fa sul canale, in un video consigli di lettura. Vi lascio il link al video sempre giù, in infobox. Quindi, qual è lo scopo di questo specifico video, del video di oggi? Prima di tutto, vorrei che fosse un'introduzione a un'eventuale serie sull'argomento, se vi interessa. Il vostro feedback, quindi, è sempre fondamentale. Vi aspetto, come sempre, ripeto, nei commenti per continuare a discutere, per scambiarci opinioni e spunti di riflessione interessanti, che potrei prendere come punto di partenza per la realizzazione di altri video sull'argomento. Ma vuole essere, soprattutto, questo video, un contenuto dall'alto grado di accessibilità. Cosa vuol dire? Prima ho detto che gli studi sulla teoria degli esattamenti sono tanti, sono piuttosto eterogenei, tante belle cose, ma alcuni sono anche molto, 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 molto specifici. Io vorrei rimanere, invece, a uno strato molto superficiale del discorso e anche abbastanza ancorato alla quotidianità, anche se spero interessante e accurato, perché credo che, prima di tutto, sia necessario rendersi conto di quanti adattamenti, non soltanto cinematografici, televisivi e audiovisivi in generale, siamo circondati. E sono tanti, sono davvero, davvero tanti. Da qui la necessità della specificazione, cioè a quale tipologia di adattamenti mi riferisco con questo video. E soprattutto perché è necessario specificare la tipologia e perché è necessario specificare che mi riferisco ad adattamenti cinematografici tratti da romanzi, tratti da opere di narrativa, quindi. Perché gli adattamenti sono tantissimi, sono veramente tanti e anche piuttosto fantasiosi. Nascono dalla combinazione tra un medium di partenza e un medium d'arrivo, o testo di partenza e testo d'arrivo, che dir si voglia, insomma. E i testi attraverso i quali noi di quest'epoca, ipercontemporanea e postmoderna, fruiamo delle storie, sono altrettanti, sono tantissimi, sono altrettanto variegati, altrettanto ibridi e fantasiosi, anche a tratti un po' improbabili. Per cui è necessario specificare, è necessario specificare, almeno nell'introduzione del video, che mi riferisco ad adattamenti cinematografici di romanzi. È necessario specificare il testo d'arrivo e il testo di partenza a cui mi riferisco. Quindi, adattamenti cinematografici, tra parentesi, testo d'arrivo di romanzi. Tra parentesi, testo di partenza o medium d'arrivo e medium di partenza, rispettivamente, che dir si voglia. Poi, se volete, andiamo ad approfondire altre tipologie di adattamento, ma ora concentriamoci su questa, perché è quella poverina schiacciata dai maggiori, dai più forti pregiudizi. Su tutti, la formula, e si sa, il libro è sempre meglio del film. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Quante volte l'abbiamo pronunciata noi stessi o anche solo pensata? Nessuna colpa, ragazzi, tranquilli. È una formula difficile da decostruire, anche dai lettori più forti, dai spettatori più consapevoli. È una gerarchia ormai incrollabile, inscalfibile. No, vabbè, non voglio essere così negativo, però è molto difficile da scalfire. È una formula ben piantata in noi, nella società, nell'ambiente accademico e nei circoli di scrittori intellettuali. È un pensiero diffusissimo, è un pensiero diffuso tra i lettori comuni e anche tra l'elite di intellettuali. È un pensiero diffuso anche tra gli scrittori più affermati e più conosciuti. Vi faccio qualche esempio. Nel 1926 Virginia Woolf definiva il cinema come un parassita e la letteratura è la sua vittima, la sua preda privilegiata. Virginia Woolf. Richard Yates, altro esempio. Richard Yates era un grandissimo consumatore di film da bambino e nella sua postfazione a Revolutionary Road, dell'edizione Minimum Fax, scrive Vado a leggere Ancora oggi non vado quasi mai al cinema e si sa che spesso dichiaro altezzosamente, anche se non proprio a pieni polmoni, che non ci vado perché i film sono una cosa da bambini. È un pensiero diffusissimo, come vedete, anche tra gli scrittori più conosciuti, più in vista, e tra i lettori più consapevoli e più forti. Poi, per quanto riguarda invece il testo d'arrivo, quindi il cinema, io mi riferisco agli adattamenti cinematografici, non audiovisivi, ma il discorso è estendibilissimo agli audiovisivi in generale, quindi ovviamente film ma anche serie tv. Io in questo video farò riferimento soprattutto ai film, quindi al cinema, ma questo discorso introduttivo è adattabile con pochissime variazioni anche alle serie tv. Capito il gioco di parole, discorso adattabile, adattamento? Vabbè, andiamo avanti. Quindi, la formula da ricostruire è il libro, si sa, è sempre meglio del film. Una formula quasi innocente, molto quotidiana, ma che veicola il pensiero diffuso che il film sia un prodotto subordinato al libro, quindi peggiore. E non è così. Non è così non soltanto perché esistono film superiori al romanzo adattato su schermo. E non mi interessa neanche farvi una lista di film che secondo me, o secondo la critica, sono migliori dei romanzi di partenza. Cioè, non è questo il punto del discorso. Esistono, sappiate che esistono, anzi già sicuramente lo saprete, ma non ci interessano oggi. Teneteveli lì. Vorrei tentare di decostruire la formula di qui sopra, piuttosto. E vorrei decostruirla, o iniziare con voi, questo percorso attraverso due motivi, attraverso l'analisi di due motivi, tra i tantissimi, di cui ancora oggi si nutre. Il primo è pensare all'adattamento cinematografico o audiovisivo in generale, come a una traduzione, in termini di una traduzione. E sappiamo che tradurre è tradire. Cioè, quante volte ci viene detto che leggere un romanzo straniero in lingua originale è meglio? Quante volte ci viene detto che guardare una serie tv straniera in originale, senza doppiaggio, è meglio? Un fondo di verità c'è, nel senso che guardare una serie tv british in inglese, sotto molti aspetti, è meglio. O leggere, che so, sparo un titolo a caso. A casissimo proprio, vado, eh. Leggere Moby Dick in originale è meglio. Non in termini assoluti, ma sotto molti aspetti sì. Non è sempre possibile fruire di testi stranieri in originale, e lo sappiamo. La lingua può essere un ostacolo, la traduzione ci viene in soccorso, ci viene in aiuto e ci dà accesso a queste opere. E fin qui non ci piove, tutto chiaro, credo. Però, la traduzione non c'entra niente con l'adattamento. Adattare non significa tradurre, non significa tradurre, santo cielo, perché la traduzione comporta sempre un grado di tradimento più o meno alto, per forza. Cioè, bisogna metterlo in conto, e lo mettono in conto i traduttori, lo mettono in conto i lettori, i fruitori, i spettatori, di opere straniere tradotte, doppiate. Adattare non significa tradurre, perché alcuni film, anzi molti film, non tradiscono affatto l'opera originale, ma manco per niente. Al di là del fatto che siano più o meno fedeli al testo di partenza, non lo tradiscono. Nemmeno in minima parte, cioè, anzi, anzi, vanno ad arricchirlo. Per cui, esistono film migliori del testo di partenza, o, caso migliore, secondo me, esistono film buoni quanto il libro di partenza, buoni e ottimi quanto il film, quanto il libro di partenza, scusate. E secondo me, quest'ultimo caso, è il migliore. È il migliore perché, personalmente, quando vado a vedere un film tratto da un romanzo, non voglio che sia necessariamente migliore del romanzo di partenza. Il caso migliore per cui, e scusate, si ripeto ancora migliore, ma è per rendere meglio il concetto, sì, è per rendere bene il concetto, è per rinforzarlo. Il caso migliore, per me, è quando il libro e il film sono parimenti buoni, slash, ottimi. Per me rientra in questa casistica la trilogia del Signore degli Anelli di Tolkien, la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson film. Anche se sappiamo che i film di Peter Jackson non sono fedelissimi ai libri di Tolkien. Cioè, Peter Jackson ha falciato dei capitoli di Tolkien, di netto proprio, e grazie a Dio che li ha falciati. Ma non perché siano stati noiosi da leggere per me o per altri lettori, ma perché non c'entravano niente con il film. Cioè, non c'entravano niente con l'idea che Peter Jackson aveva del film del Signore degli Anelli. Dei film del Signore degli Anelli. E quei capitoli che ha falciato, se li avesse tenuti, sarebbero andati a minare la coerenza del film. Ora, io penso al Signore degli Anelli, ma pensate anche voi a un esempio di film e libri parimenti buoni o addirittura ottimi e applicate questo ragionamento. Quindi, da che cosa viene arricchito un film tratto da un romanzo? Non soltanto in un'ottica migliorativa, solo di puro arricchimento. Prima di tutto viene arricchito dalla sceneggiatura, cioè da un nuovo pensiero, da un nuovo approccio di scrittura della storia. Quindi viene arricchito dai sceneggiatori. Poi da tutto il comparto tecnico. Poi dal regista e dalla sua estetica, dalla sua sensibilità, dalla sua poetica. Viene arricchito, infine, ma non per ultimo, dalla performance degli attori. Dalla performance degli attori che lavorano, anche se sul testo. Cioè, è un lavoro di squadra incredibile. Il rapporto non è uno a uno, come nel caso della traduzione autore-traduttore. Non è uno a uno. Per cui, no, l'adattamento non è una traduzione. Semmai è un rimaneggiamento. Termine molto poco poetico, da suono sgraziatissimo, ma il termine è più accurato. Altro motivo di cui questa formula si nutre è un percorso. È il percorso in particolare che fanno i lettori, comuni o forti, per arrivare al film, per arrivare all'adattamento su schermo. Ovvero, prima il libro, poi il film. Cioè, sembra quasi che la tappa obbligata, prima di entrare in sala, oltre ad andare alla toilette, sia aver letto il libro. Io ricordo ancora la maratona di lettura che mi sono sparata per riuscire a finire il libro di Hunger Games. Il primo libro di Hunger Games, prima di andare a vedere il film in sala. Mai più. Ragazzi, mai più non ne vale la pena. Soprattutto, mai e poi mai, leggere un libro pochi giorni prima di andare a vedere il suo adattamento su schermo. Io forse avevo finito poche ore prima di andare a vedere il suo adattamento su schermo. Ma mai più, mai più, perché il confronto valutativo rovina la visione. Chiariamoci, il confronto è inevitabile, perché un adattamento cinematografico è sia un film che, appunto, l'adattamento di un testo, di un altro testo. Ma il confronto qualitativo, al fine di dare una valutazione sterile, asettica, su quale medium è stato meglio dell'altro per quel tipo di storia, è il meno interessante, a mio parere. Io, personalmente, preferisco mettere a confronto le intenzioni dell'autore con le intenzioni del regista, oppure il contesto di ricezione del libro e il contesto di ricezione del film. Comunque, dicevamo, un adattamento cinematografico è sia un film che, appunto, l'adattamento di un testo, di un altro testo. Questa duplice natura dell'adattamento cinematografico crea due tipi di pubblico. Il pubblico consapevole e il pubblico inconsapevole. Consapevole e inconsapevole di cosa? Del testo di partenza. Per cui il pubblico consapevole è composto da lettori che hanno letto il romanzo adattato sullo schermo e viceversa. Il pubblico inconsapevole è inconsapevole del testo di partenza, della storia di partenza. La consapevolezza e inconsapevolezza del pubblico influisce sulla visione del film. Sono due modi diversi di fruire dell'adattamento cinematografico. Qual è il migliore? Nessuno dei due. Entrambi hanno una serie di vantaggi e svantaggi. Non è vero che un pubblico avrà un'esperienza di visione migliore dell'altra, assolutamente. Però il pubblico consapevole si creerà delle aspettative che sono pari alle aspettative che i lettori o i cinefili hanno rispetto a un genere narrativo piuttosto che a un altro. Mi spiego meglio. Gli adattamenti funzionano come i generi narrativi. E le aspettative del pubblico consapevole sono sempre almeno una sticella più in alto rispetto alle aspettative del pubblico inconsapevole. Per cui sono aspettative più difficili da soddisfare. E non sempre quindi leggere un libro e poi vedere il film permette una fruizione rilassata di questo. Io ad esempio ho trovato maggiori vantaggi nel percorso inverso, che ammetto di aver praticato poche volte per ora. Quindi prima vedere il film e poi leggere il libro. Questo percorso non mi ha tolto il piacere successivo della lettura, anzi però parlo per me e per me la trama tendenzialmente conta ben poco. Dipende anche dalla storia, dipende da che tipo di lettori siete, dipende a che cosa date importanza, se al cosa o al come. Perché se siete lettori per cui è più importante la trama dello stile, allora forse è meglio continuare per il percorso più comune, prima il libro e poi il film. Se invece anche soltanto per alcune storie vi interessa più il come del cosa, allora provate il percorso inverso. Perché è quello migliore per decostruire la formula e il libro si sa, è meglio del film. Ma si sa cosa, ma cosa, ma chi l'ha detto, ma assolutamente no. Questa formula, infatti, che stiamo tentando di decostruire, presuppone anche che per fruire, per godere pienamente dell'adattamento cinematografico di un romanzo, bisogna prima per forza leggere il libro. E in questo le case editrici ci sguastano, cioè ci sguastano o no, spingono all'acquisto del libro, alla promozione del libro da cui appunto uscirà il film, con una manovra di marketing intelligente. Forse è una delle poche manovre di marketing sensate, quindi che continuino a farla, per carità, però per favore le copertine con la foto della locandina del film, no. No, per me dovrebbero essere illegali. Io comunque vi consiglio un esercizio, vi consiglio di fare una cosa, per decostruire un poco questa formula. Ma, fatelo davvero, una volta sola, una volta sola è abbastanza, compito per casa, segnatevelo e fatelo. Scegliete un adattamento cinematografico di un romanzo, va bene anche un adattamento cinematografico di vecchia data, basta che sia un minimo di qualità. E per il romanzo invece vi consiglio un, se volete partire dal testo, a scegliere il testo di partenza, vi consiglio un romanzo breve per questo tipo di esperimento, così, insomma, non dovrete soffrire troppo se il percorso inverso non vi piace. E appunto fate il percorso inverso, prima il film e poi il libro, passate prima dal film e poi andate sul libro. Se non vi piace poi questo tipo di percorso, per carità, siete liberissimi di tornare a quello più mainstream, più comune, più percorso, non c'è nessun problema, non c'è nessuna vergogna. Ma vedrete che eventualmente ci tornerete con la consapevolezza del fatto che la subordinazione del film rispetto al libro è sciocca. Però prima dovete provare il percorso inverso, per forza. Una volta sola può bastare. Fatelo perché è così che operano i processi di decostruzione, dall'inversione dello schema mentale, dalla decostruzione della propria forma mentis. Poi ditemi come vi siete trovati. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video sia stato interessante anche in questa modalità. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Grazie a tutti!